Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Seduta straordinaria di Consiglio il 17 dicembre per illustrare le politiche della regione contro la disoccupazione e per promuovere il lavoro. L'assessore Porchietto ha fatto il punto in una fase nella quale il Piemonte ha raggiunto un tasso di disoccupazione del 9,8% contro l'8,6% del 2012. L'Assemblea ha poi approvato a maggioranza l'esercizio provvisorio del bilancio 2014 sino al prossimo 31 gennaio, accogliendo l'emendamento proposto dall'opposizione e le modifiche all'applicazione dell'addizionale IRPEF determinata per scaglioni di reddito. Wilmer Ronzani, Partito Democratico. Ricorreremo l'esercizio provvisorio per il terzo anno consecutivo e siamo una delle regioni italiane che aumenteranno l'IRPEF in maniera da pesare moltissimo sui redditi più bassi. E' questo francamente inaccettabile per una maggioranza che ha vinto le elezioni proponendo di ridurre le tasse. Roberto Tentoni, Progettazione. L'incertezza giuridica che proviene dal governo consiglia evidentemente di andare cauti nell'approvazione del bilancio. Quanto alla aliquota IRPEF occorre ricordare che quello che succede oggi è figlio di un passato riferentesi al governo Bresso. Tradizionale conferenza stampa di fine anno il 20 dicembre a Palazzo Lascris del Presidente dell'Assemblea e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per fare il punto sull'attività svolta nel 2013. In particolare il Consiglio regionale ha approvato 22 leggi e svolto 77 sedute d'aula per un totale di 44 giornate di lavori. Il Presidente del Consiglio regionale Comba e il componente dell'Ufficio di Presidenza della Consulta Giovani Davide Saitta hanno consegnato al cortometraggio OP dell'Istituto Pascal di Giaveno il premio Consulta regionale dei giovani nell'ambito del Sotto 18 Film Festival. La consulta ha inoltre conferito menzioni a pari merito ad altri due film realizzati da studenti del Liceo Artistico Cottini di Torino e dell'Istituto Arimondi Eula di Savigliano. Simona Galluccio, docente Istituto Pascal di Giaveno. Devo ringraziarli perché sono stati fantastici alla loro prima esperienza. Il messaggio è nato da loro, quindi è apprezzabile il loro tentativo di cercare di interagire con queste problematiche. Perché non parlare d'Europa? È stato il titolo del primo degli incontri organizzati dalla Consulta Europea del Consiglio regionale con Università di Torino e Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. L'appuntamento al Campus Einaudi di Torino, in collaborazione con One Station, Rete dei Medi Universitari, ha offerto spazio alla riflessione sui linguaggi comuni, con al centro New Media, Musica e Rapporto Giovani ed Europa. Fino al 10 gennaio, nella Biblioteca della Regione, la mostra In Viaggio con la Carta fra Presepi e Auguri di Natale, curata da Marisa Novelli. Propone un vasto assortimento di presepi di carta, fotografie, oggetti, cartoline e pubblicazioni su uno dei simboli più tradizionali coinvolgenti del Natale. Ed è tutto dal Consiglio regionale. Buone feste! Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte, alla radio.